Ciao raga, benvenuti in questo nuovo video, come state? Oggi video in collaborazione con Shane mi hanno mandato delle cose super carine che voglio mostrarvi tra cui costumi completini per andare in spiaggia, vestiti per la sera, alcuni set pazzeschi non vedo l'ora di provarli perché già ho visto qualcosina che tipo vorrei indossare questa sera per uscire fuori a cena con Franci ormai sapete che ogni anno collaboro con loro quindi sicuramente il marchio Shane lo conoscete è un sito in cui vendono tantissime cose, vestiti, costumi, accessori per la casa veramente di tutto hanno e io ogni volta mi ci perdo infatti se vedete il mio account su Shane ho tipo una lista infinita dei desideri come la chiamo io però oggi mi sono arrivate delle cose veramente bellissime infatti inizio a ringraziare Shane perché posso creare dei look pazzeschi iniziamo subito dai costumi anche perché così scelgo il costume del giorno perché appena finisco di registrare questo video va di spiaggia iniziamo partiamo da questo costumino mi piace tantissimo e c'è di tanti altri colori io l'ho scelto di questo colore bianco e color turchese con questi anellini tipo color marrone un po' trasparenti con l'abbronzatura fa un bel contrasto la parte di sotto è così un po' sgambato però sapete che io indosso questi costumi anche la mutanda ha questi anellini andiamolo a provare raga è pazzesco ve l'avevo detto che fa un bel contrasto con l'abbronzatura mi piace veramente tantissimo la mutanda è un po' alta rispetto a tutti gli altri costumi che ho anche questi anellini sono molto carini così diciamo che è un po' diverso dai soliti costumi classici che sono senza niente a fine video come sempre voglio sapere quale di tutti questi capi vi è piaciuto di più magari prima iniziamo con la selezione dei costumi commentate qua sotto quale di questi vi è piaciuto di più cosa super importante che ancora non vi ho detto è che ho un codice sconto per voi come sempre quindi al momento del pagamento digitate Q1 LAPTAN e avrete uno sconto del 15% in più se digitate questo codice nella barra di ricerca arriverete ad una pagina in cui troverete gli outfit più trendy di questa stagione anche questi scontati tutte queste cose ve le metterò pure nella descrizione e nel primo commento quindi anche tutte le cose che sto provando adesso le troverete qua sotto con il loro link e potrete direttamente acquistare le stesse cose che ho io adesso passiamo al secondo costume questo è il secondo costume anche questo risalta tantissimo l'abbronzatura è di un color verde acqua diciamo sì verdino mi piace un sacco questo diciamo che è più semplice ha soltanto questi anellini piccolini color argento qua dietro così se preferite dei costumi diciamo un po' più coprenti su Shane c'è veramente tantissima scelta c'è veramente di tutto costumi interi costumi diciamo a mutanda normale io invece li preferisco così e infatti diciamo che ho fatto proprio una bella selezione adesso passiamo al terzo costume questo è l'altro costume stile animalier ma Franci non ha visto anche tutti gli altri perché adesso era un attimo fuori con Chloe questo mi piace veramente tantissimo perché ha dei colori bellissimi diciamo un po' maculato un po' zebrato qua sotto ha questi anellini argento sia di qua che di qua e anche qua dietro adesso passiamo al quarto costume quarto costume questo è bellissimo ma c'è un problema la mutanda diciamo che è un po' striminzita pure davanti iniziamo però con la parte superiore bellissima è simile all'altro ma questo qui ha questo dettaglio davanti con questa perla e questi due gancettini non so come chiamarli in metallo color oro tra l'altro bellissimi perché si abbinano con la mia collana e il mio orecchino oro mi piace tantissimo dietro così allacciatura plastica Franci che dici te? questo è un po' particolare dietro bellissimo davanti un po' scoperto vi faccio vedere bene il dettaglio della mutanda anche questo bellissimo stesso dettaglio naturalmente della parte di sopra ce la sia da una parte che dall'altra la mutanda è regolabile potete decidere se tenerlo un po' più stretto un po' più largo e anche di questo modello ci sono tantissimi colori io l'ho scelto così perché secondo me risalta tantissimo la mia abbronzatura adesso passiamo al quinto costume quinto ed ultimo costume questo mi piace tantissimo cioè proprio particolarmente tanto mi piace anche questo molto semplice guardate la fantasia tipo effetto marmo forse è il costume del giorno Franca che dici? o preferisci quello di prima? rosso e bianco? no questo è più bello eh certo bellissimo poi là che hai i laccettini per fare il nodino non hai gli anelli questo ma è veramente bellissimo poi con questi colori adesso raga è arrivato invece il momento di passare ai vestiti da spiaggia vestiti da giorno mi sa che ho un set bellissimo tipo un po' in lanetta andiamo a provare subito quello vi ricordo ancora il mio codice sconto Q1 LATAM per avere lo sconto del 15% una volta che andate a pagare e in più come vi ho detto prima se inserite questo codice nella barra di ricerca rivedete ad una pagina in cui ci sono gli outfit più trendy di questa stagione già scontati proviamo il set da spiaggia raga ma di cosa stiamo parlando guardate che bellina questa gonna per andare in spiaggia sinceramente mi piacerebbe indossarla pure la sera magari con una culotte nera sotto molto molto bella questo è il toppettino abbinato anche questo molto molto bello questa parte va dietro alla schiena proviamolo subito no raga non ci credo penso che sia uno dei copricostumi più belli che io abbia è stupendo ma anche la parte sopra non pensavo fosse così perché la vedevo molto scollata invece è proprio bella cioè diciamo che comunque ti fascia bene copre qua abbiamo pure il laccettino qua dietro è così molto molto bello poi io impazzesco per queste cose in lanetta una volta mamma le sapeva fare tipo infatti ho una canotta rosa tutta fatta al vincinetto che è bellissima proviamo un altro vestitino per la spiaggia raga questo pensavo fosse per andare in spiaggia ma in realtà cioè in realtà si può utilizzare per andare in spiaggia ma secondo me è un po' sprecato perché è veramente molto molto bello anche questo è in lanetta qua è trasparente qua dietro si allaccia così con un tacchettino nero bianco secondo me è veramente molto molto bello Franci bellissimo vero passiamo al prossimo vestito questo diverso dagli altri lungo ed è per il giorno ma anche per la sera raga mi sono innamorata pure di questo parte di sopra ha l'imbottitura sotto al reggiseno ma posso pure levarlo perché tanto qua l'imbottitura bella rigida qua dietro si allaccia così con i fiocchetti qua sulle spalle se da una parte che dall'altra chiusura laterale con la cerniera qua questo spacco tra l'altro raga io vestiti lunghi con lo spacco li amo tantissimo si può utilizzare comunque anche per il giorno magari per andare fuori a mangiare ma per la sera è veramente bellissimo giusto per non mettere i classici vestitini a tubino corti passiamo al prossimo ma quanto è bello allora senza provarlo non è che mi faceva molto impazzire perché non mi sembrava come nella foto in realtà è uguale identico qua diciamo che è un po' a corpetto morbido però e poi qua abbiamo la gonna la parte sotto a valse come la chiamo io non so se si dice così bellissimo passiamo al prossimo io sono senza parole letteralmente senza parole raga ma di cosa stiamo parlando ma quanto è bello soprattutto la fantasia ma anche come mi sta questo corpetto allora spalline regolabili qua sotto diciamo che è un po' arruffato questa parte è un po' trasparente come vedete raga è stupendo con l'abbronzatura poi risalta ancora di più e in tutto ciò il 15 settembre è il mio compleanno quindi mi sa che indosserò uno di questi vestiti perché sono bellissimi proprio belli belli ok passiamo al prossimo innamorata pure di questo veramente non so più che cosa dire questo si ha la forma del classico tubino qua davanti è un po' arruffato ma ha questo particolare questa rosa non so in che tessuto è fatta bellissima e poi qui abbiamo questo dettaglio che scende su tutto il fianco e arriva fino alla parte bassa del vestito ed ecco Chloe aiuta ciao amore ciao matadora Chloe ti piace anche te Chloe fra guarda wow bellissimo dietro è così si andrebbe indossato senza reggiseno solo che secondo me qua ci vuole un po' di forma diciamo bellissimo passiamo al prossimo anche questo molto molto bello color bezzolino guardate il pelino questo particolare perché questi lacci lunghi in realtà l'ho lacciato male i lacciatini andrebbero un po' più avanti dai guarda questi due dietro dai Chloe così che i lacciatini stanno qua davanti e Francesco e Chloe continuano a giocare bellissimo vi metto ancora qui il mio codice sconto 1 l'hacken per lo sconto del 15% da inserire al momento del pagamento vi metto anche qui l'altro codice da mettere nella vara di ricerca così vi porto nella pagina in cui ci sono gli outfit più trendy della stagione già scondati passiamo al prossimo ancora una volta Shane mi ha lasciata senza parole guardate questo set uno dei miei preferiti il fatto che di tutti i vestiti continuo a dirlo raga quest'anno mi hanno mandato delle cose pazzesche ogni anno ma quest'anno cioè di cosa stiamo parlando bellissimo poi mi sta alla perfezione perché io li trovo perfetti della mia misura perché vabbè a parte che quando andate a selezionare i vestiti c'è la parte dove ci sono tutte le misure io però vado sempre a vedere tutte le persone che hanno acquistato magari quel capo vedo come gli sta il vestito e poi scelgo la mia taglia e infatti così non sbaglio mai cioè perfetto sembra fatto su misura ha qua i bottoncini bianchi il collettino pazzesco passiamo al prossimo outfit penultimo outfit questo set bellissimo per la sera mi piace un sacco perché non è il classico top e gonna nero guardate qua la spallina ha questo dettaglio che tra l'altro quest'anno va un sacco di moda fra che dici bellissimo anche sulla gonna questo dettaglio è un po' più lungo e mi piace proprio per questo che ne dite molto particolare vero perché questo non vedo l'ora di indossarlo passiamo all'ultimo vestito questo devo dire proprio che è il mio vestito preferito lo aspettavo con ansia vi dico con ansia è pazzesco questo arriva fino ai piedi dietro è così e questi dettagli raga pazzeschi abbiamo queste roselline in metallo oro abbiamo tre ah no quattro fiori forse mi serviva anche qualche orecchino devo vedere su scene perché tanto so già che li trovo perché lì ce le hanno queste cosine poi abbiamo la parte inferiore del vestito che è così poi abbiamo appunto quest'altra rosina con un bel tacco nero alto secondo me fa la sua scena borsetta nera o anche oro secondo me infine ci rimane un'ultima cosa non può mancare diciamo un maglioncino un bollerino per l'estate da utilizzare di sera perché magari fa un po' freschino soprattutto qua in Sardegna che a volte la sera fa freddo poi beh dipende dove siete se siete diciamo sul lungomare è possibile che ci sia un po' d'aria ha le maniche un po' larghe qua guardate che scende un po' a campana come lo dico io io diciamo un po' tutti i miei termini strani qua davanti si allaccia si fa un bel fiocchettino e anche questo è molto elegante piuttosto che avere i classici maglioncini come quelli che ho io sembra fatto apposta per questo vestito comunque ma allora forse al mio compleanno metto questo bellissimo fra guarda che sembra fatto apposta questo maglioncino per sto vestito bello eh non è suo no non è suo bellissimo raga finito di provare tutti i vestiti che mi ha mandato Shane innanzitutto li ringrazio nuovamente devo ancora capire che cosa indossare questa sera ripeto forse questo sarà l'outfit invece del mio compleanno anche se lo indosserò anche poi in Sardegna magari per uscire fuori a mangiare qualcosina con Franci e vi ricordo ancora il mio codice sconto Q1 LATAM ve lo metto qua sopra e anche qua sotto in descrizione nel primo commento così se lo utilizzate al momento del pagamento avrete uno sconto del 15% ripeto che anche tutti i codici di questi vestiti quindi i codici sculi troverete sempre qua sotto in descrizione così vi risulta molto ma molto più facile trovare questi vestiti che mi ha mandato Shane fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete acquistato qualcosa o anche su Instagram scrivetemi e magari mandatemi pure la foto del vestito come vi sta ora vi mando un bacione grande grande vado a mettermi il costumino che ho scelto prima penso proprio che metterò questo con la fantasia marmo e ci vediamo nel prossimo video ciao raga